Ciao! Ciao! Piacere, mi chiamo Kiko. Piacere, come vieni? Hai dei figli? Infatti lui è uno che sta giocando con la maglietta bianca. Il bambino con la maglietta bianca. Ogni giorno vengono rapiti un sacco di bambini in tutto il mondo e oggi vorrei mostrare un modo come rapire un bambino davanti ai genitori senza che se ne accorgono tramite il mio complice. Saresti d'accordo per questa prova? Proviamo! Ok, andiamoci. Ciao! Vuoi giocare? Accelate! Accelate! Vuoi venire a casa mia a giocare? Va bene? Alla Playstation va bene? Sì, 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 sì. Che giochi ti piacciono? Minecraft, Fortnite, andiamo! Abbiamo tanti giochi a casa. Vuoi venire con noi? Stiamo! Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Andiamo! Eccoci qua! Siamo tornati! Con chi sei stato? Con Gioela, casa sua. Ma non lo conosciamo? No. Ti ti ha dato il permesso? Nessuno. Cosa devi fare prima di andare via con qualcuno? Chiedere. Perché non l'hai fatta? Non va bene. Per questa volta è andata così. Almeno adesso sai come ti devi comportare. Comunque, grazie mille di tutto. Grazie a te. Grazie a voi bambini. Diciamo alle famiglie di stare più attenti. Soprattutto di insegnare ai propri figli di chiedere prima di fare qualsiasi cosa o di andare con qualsiasi persona che possano incontrare, anche se questa può essere la persona più splendida di questo mondo. Questo è un modo per rapire un bambino. Grazie a tutti.